Ciao a tutti, io sono Roxy e... siamo più di 2000! Yeeees! Victory Dance e vi volevo dire che vi sono troppo, 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 troppo grata, grazie, 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 grazie e per questo motivo farò due cose! Numero 1, il mio primo Q&A, domande e risposte. Quello che dovete fare è lasciarmi la vostra domandina nei commenti e io nel video Q&A sceglierò alcune domande e risponderò. In più, saluterò la persona che mi ha fatto quella domanda. Così prendo due piccioni con una fava. Numero 2 è... Giveaway time! Uno perché siamo più di 2000 e due perché le feste sono vicine, si avvicina Natale e quindi, di nuovo, due piccioni con una fava! Questo giveaway è internazionale ma dovete essere maggiorenni oppure avere il consenso dei vostri genitori. Non lo farò qui su YouTube ma userò di nuovo l'applicazione Rafflecopter e vi lascio nella descrizione il link per andare sulla mia pagina Facebook e sull'applicazione. Potete partecipare anche se non avete Facebook basta che mettete il vostro nome e la vostra email e ho deciso di usare Rafflecopter perché mi sono trovata benissimo l'altra volta e perché qui su YouTube a volte i commenti vengono spammati e vengono nascosti e quindi secondo me non è giusto. Due, perché quei programmini come random, eccetera, eccetera io non mi fido tanto perché secondo me si perdono per strada degli utenti. Invece Rafflecopter fa tutto da solo sceglie il vincitore mette il nome pubblicamente quando è finito il giveaway a me mi invia direttamente l'email così io lo posso contattare e in più vi dà diverse possibilità di vincere. Le due cose obbligatorie sono essere iscritti a questo canale RoxyRoxTV e commentare sotto questo video dicendomi qual è il vostro video preferito tra i miei video ovviamente. Il giveaway partirà dal giorno in cui caricherò questo video comunque lo scriverò poi nella descrizione fino al 20 dicembre e il premio è rullo di tamburi questo pigiamino di Totoro così possiamo essere gemellini e ora vi faccio vedere un pochino tutti i modi in cui potete vincere. Dunque questo è un altro video però facciamo finta che questo è il video del giveaway per prima cosa dovete essere iscritti al mio canale quindi se avete il bottoncino questo qui rosso cliccateci sopra così siete iscritti. Dopodiché dovete commentare il video del giveaway dicendomi qual è il vostro video preferito tra i miei video. facciamo finta il draw my life quindi scriviamo draw my life ovviamente potete scrivere quello che vi pare potete fare anche un commento più lungo. Dopodiché inviate il commento e una volta che l'avete postato cliccate con il destro del mouse e lo copiate. Ora andate sulla mia pagina facebook tutti i link sono nella descrizione del video se volete andarci direttamente da lì e andate dove c'è scritto giveaway questa cosina blu ci cliccate e siete sull'applicazione del giveaway potete partecipare anche se non avete facebook se non avete facebook vi chiederà di mettere il nome e l'email se avete facebook invece vedrete la schermata così ora qui vi dice che ci sono due cose che dovete fare per forza la numero 1 è iscrivervi a RoxyRoxTV cliccate qui dove c'è scritto più 1 e vi chiederà il vostro nome su youtube così io posso controllare se siete veramente iscritti al canale mettete il nome e poi cliccate su enter e perfetto la seconda cosa che dovete fare è commentare il video e nello spazietto bianco ci dovete incollare il commento che avevate fatto sotto al giveaway quindi lo potete riscrivere o lo incollate e basta e scriveteci anche il vostro nome e premete enter una volta che avete fatto queste due cose come vedete vi si sbloccano le altre opzioni così potete avere più possibilità di vincere se avete twitter potete cliccare qui e twittare a proposito del giveaway basta cliccate su tweet loggate su twitter twittate e poi premete i tweeted ho twittato potete mettere mi piace sulla mia pagina facebook e vincete un'altra entrata sempre se avete twitter mi potete seguire su twitter e cliccate qui potete aggiungermi alle cerchie di google plus e dovete scrivermi il vostro nome così io posso controllare che mi avete aggiunto alle cerchie e come ultima cosa potete continuare a commentare il mio video sempre copiando e incollando il commento che avete fatto sotto al video e questa opzione la potete fare tutti i giorni ogni giorno potete vincere una entrata extra facendo questa cosa commentando il video del giveaway e poi copiando e incollando il vostro commento qui e poi premete enter e voilà però metteteci anche il vostro nome così io capisco di chi è il commento di chi ricordatevi che se state facendo questa cosa con l'account di facebook io alla fine contatterò il vincitore tramite l'email che avete impostato su facebook quindi controllate la posta in arrivo di quell'email inoltre vi ricordo ancora una volta che solo le prime due opzioni sono obbligatorie tutte le altre non sono obbligatorie per partecipare a questo giveaway se non avete facebook se non avete twitter non è importante l'importante è che siete iscritti su youtube e che commentate il video solo le prime due opzioni sono quelle obbligatorie non dimenticatevi di leggere benissimo la descrizione buona fortuna e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao